Radio Collection, in edicola la seconda uscita con la F-50 a 8,90 euro. Italia 1. Stanno venendo da te. La realtà è un pensiero del passato. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità. La lotta per il futuro è cominciata. E così sei qui per salvare il mondo. Sanno chi ha preso i loro sogni. So perché non dormi. La domanda. Che cos'è Matrix? Sanno chi ha imprigionato la loro umanità. Il futuro è il nostro tempo. Sanno chi ha preso le loro vite. Mani in alto! E loro sono pronti a combattere. Se non sei uno di noi, ammientiamoli. Sei uno di loro. Blocca. Matrix, giovedì alle 21 Italia 1. Per sapere come tutto è cominciato. Con 3 puoi chiamare, videochiamare e scoprire il mondo dei video messaggi. Videochiamata 3. Per vedere, farti vedere e mostrare in diretta tutto quello che accade intorno a te. Come on! 3. Videocomunicazione mobile. Sì! Ehi Del Piero, come fai a mantenerti in forma? Semplice. Noi della Nazionale beviamo Oliveto ogni giorno. Mangia! Anche in famiglia. Oliveto, unica per i suoi preziosi minerali e la microeffervescenza naturale, aiuta a digerire meglio. Ciao Alex! Ciao! Con Oliveto digerisci meglio e vivi in forma. Imperfezioni, brufoli, ferma il massacro! L'arma assolutamente efficace è lo stilo SOS antiimperfezioni Garnier Pure. Mira, premi! L'imperfezione è asciugata. È provata dai dermatologi e da me. Nuovo stilo antiimperfezioni Garnier Pure. L'arma letale contro i brufoli. Garnier. Goditi un Jameson. Assaggia il gusto morbido di un whisky unico, come Jameson. Jameson Irish Whisky. Il gusto morbido, made in Ireland. Spaghetti? Voi mi chiedete una botta di vita? Tonno rio mare con aglio e peperoncino. Apri e... Voilà! Aglio e peperoncino, eh? Ciò pronti! Spulmine! Che bravo! No! Tonno rio mare con aglio e peperoncino. È la pasta che te lo chiede. È la pasta che te lo chiede. Da Rimmel London, una vera rivoluzione. Il nuovo mascara Extreme Definition con applicatore a fettine. Separa e definisce le ciglia una a una. Inizia la rivoluzione. E tu, da che parte stai? Nuova Extreme Definition Mascara a fettine. Rimmel, The London Look. Dove sono nata io, le parole sono scritte sulle facce. I gesti profumano di terra. Dove sono nata io, le cose che contano non le dici. Le senti? Da Dez Amore, uno sformato dorato di morbide patate, prosciutto cotto e mozzarella filante. Dez Amore Findus, cosa fai di buono oggi? E' arrivata una nuova idea di sportività. Nuova Citroen C2, la prima Urban Sports Car. Te ne devi forte! X-Men 2 è in DVD. Tuffati in una grande avventura da vedere e rivedere tutte le volte che vuoi. X-Men 2, in versione disco singolo e in edizione speciale due dischi. Scegli quello che preferisci. Juliette ha un piccolo segreto ricco di magia. L'attesa non si inganna. Si gusta. Ci vuole poco per far sorridere. Questo è il segreto di Juliette. Ferrero Rocher, ogni giorno una magica bontà. Rocco non sapeva andare a vela. Lorenzo andava troppo a vela. E questo ultimo coso, Mario... Dario. Papà si chiama Dario. Per quanto ne so, non sa manco nuotare. Dov'è il problema? Lo amo. Lo sposo? Lo sposi. Hai conosciuto venerdì? Ma dai, non ti preoccupare. Sento che questo è quello buono. Il brodo, no? Ah, pensavo coso... Dario, papà... Gli uomini passano, ma il sapore ricco del brodo Knorr non cambia mai. Knorr, innamorarsi in cucina. Magico Baby Poo. Quando il tuo bambino scuote il suonaglio, Baby Poo balla con lui. Magico Baby Poo. E c'è anche Baby Tigro 3 in 1. Un tenero amico per crescere insieme. Combatti i sintomi dell'influenza prima che ti blocchino. Aspirina C. Contro raffreddore e febbre. Il medicinale a controindicazione può avere effetti indesiderati. Sotto i 12 anni consultare il medico. Leggere attentamente il foglio di rosserettura. Ancora qui? Volevo bere anch'io, Oliveto. Prego. Con Oliveto digerisci meglio e vivi in forma. Tu sei la stella. E il mondo rotto intorno a te. Entra in Vodafone One. Una grande rete di negozi dove tutto è il tuo servizio. Questo è Vodafone One. Ed è tutto intorno a te. Vodafone One è tutto intorno a te. Cosa vuoi di più dalla vita? Un Lucano. Amaro Lucano. Voglio il meglio. Italia? Uno. Prima volta in Australia? Sì. Sabrina e Gwen dall'altra parte del mondo. Questo sì che è un paradiso. Per una vacanza di tutto relax. No. Ma per ragazze come loro... Sono due streghe. Salem. Ci sono solo vacanze molto speciali. Che cos'è? Acqua salata. Acqua di soda porta le gambe e cancella la coda. Mia sorella sta male. Fammi tornare come erotisco in giù. Non posso. L'incantesimo si scioglierà fra trenta e sei ore. Sabrina nell'Isola delle Sirene. Domani sera alle 21 in Prima Visione Italia 1. Morellato. Gioielli da vivere. Salve. L'avvenimento più importante della prossima settimana sarà il dolore. Il dolore di un'intera nazione che celebrerà le proprie vittime in Iraq. Sono tornati i corpi e sono tornati mentre il terrorismo colpiva in tutto il mondo. Tornerà anche il Presidente della Repubblica Ciampi che ha parlato con Bush e ha ricordato che l'Italia è in Iraq per una missione di pace. Bush ha apprezzato il ruolo dell'Italia. Ci celebreranno questi funerali e sarà certamente l'avvenimento più importante della settimana. Noi vi ricordiamo per le anticipazioni di TG Rumors che basta fare un SMS al numero 48429 e scrivere TG Crow sì. e vi aspettiamo sul sito www.tgcom.it. Ferrari Collection in edicola la seconda uscita con la F50 a 8,90 euro. Un taglio una! Certe persone sono fatte festare insieme. A Smallville tutto è possibile. Cosa proveresti se qualcuno ascoltasse tutto quello che dice? Non dovresti lavorare per Lionel? Clark. Volevo solo congratularmi con te. Anche i sentimenti. Dovete andare via. Alzate le mani. Ce ne andremo dopo aver vuotato la cassaforte. Corrono su un binario pericoloso. Non c'è niente che abbia valore. E portano alla luce segreti mortali. Dov'è mia madre? Se scopro che hai qualcosa che vedremo. In prima visione su Italia 1, Smallville. Questa settimana, martedì alle 21. Se l'amor, se l'amor, è l'amor. E l'amor, l'amor, è l'amor. If you should chance on a foreign romance. Se l'amor, è l'amor, mi amor. It's love. On the Jets. Provate nuove posizioni. Tua con 80 euro al mese e assicurazione furto incendio per tre anni. Borotalco bagno schiuma. Alto lallo stress. Borotalco bagno schiuma. Inconfondibile profumo. Inconfondibile cremosità. Inconfondibile effetto borotalco sulla pelle. Borotalco. Alto. Alto lallo stress. Ehi, Ray, hai visto quanti film? Film con grandi star, come me. Ma questo non è champagne. E questa la chiami palestra? Blockbuster ha così tante copie di X-Men 2, una settimana da Dio, che li trovi subito. Olinoleggi gratis la prossima volta. Make it a Blockbuster night. Da Barilla. Pesto alla Genovese. Quel sapore speciale. Delle cose fatte con amore. Pesto alla Genovese Barilla. Nato dall'amore per la pasta. E da oggi, verdure saltate. Una nuova ricetta. Tutta da gustare. Vivace dei Golden Lady. Il beauty con l'an. Molto più vivace. Un massaggio di bellezza per le tue gambe. Golden Lady. Grande amica. Ci sono tentazioni a cui non puoi resistere. Come Cioccolate Alpenliebe. La caramella con il morbido ripieno di cioccolato. Cioccolate Alpenliebe. Il refrenabile tentazione. C'è posto? Il posto è tuo. Davvero? Vieni. Il lavoro sarà... Lontano, sì. Lontano da qui. E cos'è che faresti? L'accademia. Ma se non sai disegnare. È per questo che... Vado. Ma ovunque sarò, tu sarai sempre. Qui accanto a me. Torna Johnny Depp dopo il successo della maledizione della prima luna. Potrebbe diventare anche più pericoloso. Ti piacerà? Credo di sì. C'era una volta in Messico. Vai, vai. Rassone. Samsung E700 con autoscatto e multiscatto. Fotografa quello che ami. Maliziosa, eccitante. Scopri Francesca Piccinini. La sexy atleta dell'anno nel calendario Mansalt 2004. Per te, in edicola. Ora sei pronto per Xbox Limited Edition che include Halo e Midtown Madness 3. Se lo compri, arriveranno. It's good to play together. Lo stadio. La partita. Il premio. Questa è vita. Questa è la vita Chivas. Sono qui per prelevare lei e la sua gente. Tutti a terra! Corazzo, andiamo! Tornate indietro! Porteremo a termine la missione. Renault Clio da 8.550 euro. Finanziamento senza anticipo. Prima rata 31 marzo 2004. E ora rotta verso l'isola dei Paguri. Dele, fa un po' il paguro. Tutto a posto. Tutto a posto. Aiuto, pescador! Emergenza! Mille euros! Mille euros! Paguro, quanto c'è rimasto? Mamma? Poste Italiane presenta Poste Pay, la carta prepagata e ricaricabile, anche a distanza. Quanto ricarichiamo? Mille euros per i miei paguri. Poste Italiane Voilà, la sua nuova TV. Ma è la stessa di prima. L'apparecchio è lo stesso, ma la qualità è digitale. Ha installato la parabola. Ma no! Guardi, sempre la stessa antenna. Eppure adesso la sua TV è interattiva. Interattiva? Provi. Controcampo, la passione di mio marito. Ora può vedere i risultati e i marcatori. Ma va? E anche la classifica. E poi? Dare un posto in studio. E magari di vedere i gol. E perché? Magnifico! Ma come ho fatto? Ho installato il box interattivo. Box interattivo? Il box che decodifica il nuovo segnale digitale terrestre. Lo voglio! Pazienza! Arriva tra poche settimane. Nasce la TV del futuro. Digitale terrestre. Multicanale interattiva gratuita. Buonasera, vediamo insieme le previsioni del tempo di domani. Al mattino piogge sparse o rovesci su Riviera di Levante, Est Lombardia, regioni nord orientali, Romagna, Umbria, Toscana e Lazio. Qualche pioggia sul Salento e sul sud della Sicilia. Scirocco ovunque, forte intorno alle isole e sul Tirreno. Al pomeriggio migliora al nord ovest, poche nubi, al sud molto nuvoloso sul resto dell'Italia. Con piogge sparse su est e Lombardia, al nord est, quasi tutto il centro e sulla Sardegna. Scirocco intorno ai 40 chilometri all'ora sul Tirreno. Agitati i mari di Ponente, molto mossi i restanti. Temperatura massima in rialzo ovunque. Dati svizio metronautica e lavorazione grafica Epson. Ferrari Collection, in edicola la seconda uscita con la F50 a 8,90 euro. Italia 1! Jalapas e Iene. Una squadra di fenomeni. La prima serata di Italia 1 che ritrovate ogni domenica. Allora sì che fanno ridere. Ma... Mai dire domenica. E le Iene Show si spostano al mercoledì. Solo per una volta. Non voglio anticiparvi niente. Esatto. Mai dire domenica e le Iene Show. Ragazzi, fate quello che ho detto ma siete a te. Mercoledì alle 21 e alle 22 e 15 Italia 1. Non ci provate più. Non è giusto. Hai ragione. Faccio lo sciopero della fame. Lo sciopero della fame. A tavola. Eh? I sofficini. Ok, lo sciopero della sete. La grande promozione Sofficini continua. Ford Focus C-Max. È già un grande successo. 125.000 visitatori. 16.000 prove su strada nel solo weekend di lancio. In pochi giorni 4.000 italiani. L'hanno già scelta. Si replica a grande richiesta. Sabato 22 e domenica 23. Beilis. Fate scegliere i vostri sezzi. Senti, mi serve il numero di telefono di Luca. Ci manca il quinto per il calcetto. Sì, Luca. E poi? Poi Paolo in porta, io e Gigi davanti e Marco dietro. Agguerriti. 89, 24, 24. Pronto, pagine gialle. Lavarsi i denti più volte al giorno è importante. Perché i batteri che causano la placca si moltiplicano ora dopo ora. Ma quando non c'è lo spazzolino, c'è Dagan Protex a triplazione. L'oxilitolo aiuta a combattere i batteri. Il fluoro protegge i denti. Il calcio li rinforza. Ora dopo ora, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dagan Protex. I grandi artisti italiani cantano le sue canzoni. Faber Amico Fragile. Un emozionante concerto diventa un album irripetibile. Faber Amico Fragile. Tutti per Fabrizio De Andrè. Il grande Natale Sky sta arrivando. Una festa senza fine per tutta la famiglia. Più emozioni. Più risate. Più passione. Più scoperte. Regalati il Natale Sky. Ad un prezzo tutto da scoprire. Da oggi con Nivea lo styling diventa un piacere sui capelli. Nuovo Nivea Styling. Styling mousse. Massimo volume e morbidezza. Spray fissante. Lunga tenuta, non in colla. Gel. Il piacere di fissare le tue idee. Nuovo Nivea Styling. Fissa il piacere sui tuoi capelli. Nivea Styling. Morbidelli Sperlari. Fategli la festa. Swatch Touch. Body Spring. La scienza del naturale in farmacia. Chiedilo al tuo farmacista. Body Spring. Da Angelini. Olympus. Fotografia e innovazione. Go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life. Attrazione Blu By Derby Blu Nei migliori bar E a casa tua Miore no scenic, apriti nuove strade L'auto più sicura tra le monovolume compatte Premiata con 5 stelle nei test di sicurezza Euron Cup Ufficialmente il suo nome è Jack Daniels Old Time Old Number 7 brand Quality Tennessee Sour Mesh Whiskey Ma ti basterà chiedere di Jack Ritter Sport con tanti coloratissimi Smarties di Nestlé Immersi in cioccolato al latte State allegri con Ritter Sport più Smarties Quadrato pratico buono Se un alieno cercasse di capire quello che succede Domande che tutti vorrebbero fare Diario di bordo, prima settimana Fatti che tutti vorrebbero capire Non esiste proprio I politici, c'è la cosa dei politici Mario Giordano continua a indagare sulla nostra realtà Che cosa è successo? Che cosa è cambiato? Buongiorno signora Siamo di Italia 1 Studio aperto presenta L'Alieno Mercoledì alle 23.30 Italia 1